bellissima questa qua scendere, devi solo stare attento ai ceppi devi solo stare attento ai ceppetti se becchi due ceppi ti ammazzi questa era quella brutta, ma l'han tagliata adesso no c'è lì in mezzo alla piana, bisogna tagliarla, vai su dalla pineta vai su dalla pineta 4 4 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non si vede più niente. Grazie a tutti.